Il Paese aspetta risposte, il Paese aspetta risposte, il Paese aspetta risposte, il Paese e adesso come andrà, cosa succederà? E adesso come andrà, cosa succederà? Al governo, al governo, cosa succederà? Al governo, al governo, cosa succederà? Il Paese aspetta risposte, il Paese, il Paese, il Paese aspetta risposte, il Paese e adesso come andrà, cosa succederà? E adesso come andrà, cosa succederà? Il Paese aspetta risposte, il Paese aspetta risposte, il Paese aspetta risposte, il Paese